Siamo a parlare dei show che è una serie di video settimanali in cui vengono individuati dei titoli adatti alla diversificazione geografica. Non ci sono titoli americani, non ci sono titoli italiani che sono segnalati in altri video, non in questa serie. Questa serie sono segnalati i titoli di tutto il mondo, cinesi, indiani, ovviamente anche europei, tedeschi, francesi, a seconda dei titoli che in un dato momento sembrano i più promettenti. Il portafoglio, come vedete questi qui sono i rendimenti degli euro, qui non c'è rendimento perché questo qui è l'ultimo titolo che è stato suggerito, che è stato suggerito oggi, per cui Google non ha ancora messo le quotazioni. Gli ultimi titoli che ho suggerito invece stanno andando veramente bene. Quello della settimana scorsa ha già fatto il 12%, quello di due settimane fa il 7%. Qui c'è uno stop loss che è scattato, questo no, non è uno stop loss, è il titolo che perdicchia ancora, e poi qui c'è ad esempio un 18%. Quindi la scelta dei titoli con gli algoritmi che adoperiamo per scegliere i titoli direi che è corretta. Infatti il portafoglio fa molto bene. Il portafoglio è un portafoglio che è vecchio di 362 giorni e puntualmente fa il 20,5%. Annalizzato 20 diviso 362 per 365 fa 20,67%, che è il modo corretto di giudicare un titolo, perché tutti i titoli devono essere annualizzati, se no titoli che hanno durate diverse hanno rendimenti diversi, ma non si riescono a comparare tra di loro. Ecco, quindi diciamo il rendimento è il 20%, ma nel frattempo un Dow Jones pesato, cioè a dire un Dow Jones comprato e venduto con lo stesso ritmo con cui sono stati comprati e venduti i titoli, in questo momento avrebbe un rendimento dell'1,14%, per cui il portafoglio lo batte dal 19%, 19 punti che è un'enormità. Quindi questo portafoglio sta andando veramente molto bene. Per cui se volete entrare a far parte della nostra truppa, scrivetemi, abbiamo volentieri. A presto.